Dobbiamo impiegare tutto ciò che abbiamo, è probabile che nell'ambito di quella che si chiama rolling review, cioè la revisione dovuta all'esperienza, a ciò che succede durante le vaccinazioni di massa, si possa anche fare quella raccomandazione di auspicio su una classe inferiore dei 60. Quindi questo si sta pensando nelle interlocuzioni che ho avuto con il Comitato Tecnico Scientifico, con l'Istituto Superiore di Sanità, il Consiglio Superiore di Sanità, con l'AIFA, chiaramente è un discorso che gli scienziati stanno vedendo anche sulla base degli studi più avanzati che ci sono in Gran Bretagna dove, ripeto, hanno finora utilizzato 21 milioni di vaccini. Noi dobbiamo credere nella scienza, è l'unico modo per uscire da questa pandemia.